poiché si parlava ancora dell'affare Planzini il signor Malurò che durante l'impero era stato procuratore generale disse una volta mi è capitato un caso curioso e per diversi aspetti del tutto singolare come vedrete a quell'epoca ero procuratore imperiale in provincia e ben visto a corte grazie a mio padre primo presidente a Parigi dunque io pronunciai una ringa in una causa rimasta celebre col nome di affare del maestro Moron il signor Moron maestro elementare nella Francia settentrionale godeva d'eccellente reputazione in tutta la zona uomo intelligente sposato molto pio un po' taciturno si era ammogliato nel comune di Boalsinot dove esercitava la sua professione aveva avuto tre figli morti di tisi uno dopo l'altro da quel momento sembrò che trasferisse sulla ragazzaglia affidata alle sue cure tutta la tenerezza che serbava nascosta nel cuore comperava di tasca sua giocattoli per i più bravi e i più buoni faceva fare loro merenda rimpinzandoli di dolci di caramelle e di torte tutti volevano un gran bene e lo davano quel brav'uomo di gran cuore quando l'uno dopo l'altro cinque dei suoi alunni trovarono la morte in circostanze sospette si pensò a un'epidemia causata dall'acqua inquinata dalla siccità cercarono le cause ma non furono scoperte tanto più che i sintomi parevano molto strani i ragazzi sembravano colpiti da una malattia che dava loro un estremo languore non mangiavano più le accusavano dolori al ventre resistevano per un po' e infine espiravano tra sofferenze spaventose fu fatta l'autopsia dell'ultimo che morì ma senza esito le viscere mandate a Parigi e analizzate non rivelarono la presenza di alcuna sostanza tossica per un anno non accadde nulla poi due ragazzini, i migliori della classe i prediletti del maestro Moiron morirono in quattro giorni fu prescritta una nuova autopsia e negli organi di entrambi i corpi furono trovati frammenti di vetro triturato se ne concluse che i due ragazzi avevano dovuto ingerire imprudentemente qualche alimento mal lavato bastava un vetro scheggiato finito dentro una scodella di latte a produrre quell'orribile incidente il caso sarebbe rimasto insoluto se nel frattempo non si fosse sentito male la serva di Moiron venne chiamato il medico che constatò gli stessi sintomi morbosi riscontrati nei ragazzi morti poco prima la interrogò e ne ottenne la confessione di aver rubato e mangiato alcuni dolcetti comperati dal maestro per i suoi alunni l'edificio scolastico fu perquisito su ordine giudiziario e venne scoperto un armadietto pieno di giocattoli e di dolci destinati ai ragazzi ebbene, in quasi tutti i dolci c'erano minuscoli frammenti di vetro o frammenti di aghi Moiron, arrestato immediatamente, sembrò talmente indignato e stupefatto dei sospetti che pesavano su di lui che si dovette rimetterlo in libertà eppure indizi della sua colpevolezza erano evidenti e venivano a contrastare nel mio giudizio la mia prima convinzione basata sull'eccellente reputazione del maestro su tutta la sua vita e sulla mancanza assoluta ad un qualsiasi motivo capace di determinare un delitto simile a quale scopo quell'uomo buono, semplice, pio avrebbe ucciso dei bambini anzi, i bambini a cui pareva più affezionato i bambini che viziava, che riempiva di biscotti e per i quali spendeva in giocattoli la metà dello stipendio per ammettere quel delitto si poteva solo pensare alla follia e invece Moron sembrava tanto ragionevole e tranquillo piano di buonsenso che sarebbe stato impossibile provare in lui un qualsiasi tipo di pazzia eppure le prove si accumulavano dolcetti, torte, pasticcini di altea e altri acquistati dai negozianti presso i quali il maestro faceva provviste fu provato che non contenevano alcun frammento sospetto sostegna allora che un nemico sconosciuto aveva dovuto aprire il suo armadietto con una chiave falsa per introdurre nei dolci i frammenti di vetro e di aghi e inventò tutta una storia di eredità che dipendeva dalla morte di un bambino decisa e desiderata da uno sconosciuto compaesano e ottenuta con quel mezzo per far ricadere i sospetti sul maestro quest'essere immondo, diceva Moron non sarà neanche preoccupato degli altri poveri ragazzini destinati alla stessa morte era possibile l'uomo sembrava così sicuro di sé e così affranto che l'avremmo senza dubbio lasciato libero nonostante le prove a suo carico se due scoperte decisive non fossero state fatte l'una dopo l'altra la prima una tabacchiera piena di pezzetti di vetro la sua tabacchiera in un cassetto segreto dello scrittoio quello in cui riponeva il denaro questa circostanza veniva spiegata da lui in maniera quasi plausibile come un altro trucco del vero colpevole sconosciuto ma si presentò dal giudice istruttore un mercaio di Saint Marlouf che raccontò che un signore aveva acquistato da lui alcune buste di aghi in varie volte gli aghi più sottili che si potessero trovare in commercio il mercaio riconobbe subito Moron tra una dozzina di persone che gli vennero mostrate e il proseguimento dell'inchiesta confermò che veramente il maestro era andato a Saint Marlouf nelle date indicate dal commerciante sorvolo sulle terribili deposizioni dei bambini relative alla scelta dei dolci e alla preoccupazione di Moron che fossero mangiati in sua presenza e senza lasciar la minima traccia l'opinione pubblica esasperata reclamava la pena capitale con la forza di quel terrore furibondo che supera qualsiasi resistenza e qualsiasi remora Moron fu condannato a morte poi il suo appello per una revisione del processo venne respinto non gli rimaneva che inoltrare domanda di grazia sapevo da mio padre che l'imperatore non l'avrebbe concessa ebbene una mattina stavo lavorando nel mio studio quando mi venne annunciata la visita del cappellano della prigione era un vecchio prete che aveva una profonda conoscenza dell'animo umano e della psicologia dei criminali sembrava turbato, a disagio, inquieto dopo aver chiacchierato del più e del meno per qualche minuto mi disse all'improvviso alzandosi in piedi se Moron sarà decapitato, signor procuratore imperiale voi avrete lasciato mettere a morte un innocente poi uscì senza salutare lasciandomi sotto la profonda impressione delle sue parole le aveva pronunciate con un tono commovente e solenne schiudendo per salvare una vita le sue labbra sigillate dal segreto della confessione un'ora dopo partivo per Parigi e mio padre, da me prevenuto fece chiedere immediatamente udienza all'imperatore fu ricevuto il giorno dopo quando fummo introdotti sua mastà era intento a lavorare in un salone raccolto esposi quanto era accaduto sino alla visita del sacerdote stavo per iniziare questa parte del racconto quando si aprì una porta dietro la poltrona del sovrano e comparve l'imperatrice che lo credeva solo Napoleone chiese il suo parere quando fu messa al corrente dei fatti e la gridò bisogna concedere la grazia a quest'uomo è necessario perché è innocente perché questa improvvisa convinzione ed una dama tanto pia fece nascere nell'animo mio un terribile dubbio sino a quel momento avevo desiderato ardentemente una commutazione della pena ed improvviso mi parve d'essere il giocattolo la vittima ed un esperto criminale che si era servito del prete e della confessione come del suo estremo mezzo difensivo esposi i miei dubbi alle loro maestà l'imperatore era indeciso sollecitato dalla sua bontà naturale e trattenuto dal timore di lasciarsi ingannare da un miserabile ma l'imperatrice convinta che il prete aveva obbedito a una sollecitazione divina ripeteva non importa meglio graziare un colpevole che far uccidere un innocente il suo parere venne accolto la pena di morte fu commutata in quella dei lavori forzati a vita qualche anno dopo venne a sapere che Moiron il cui comportamento esemplare nella prigione di Tolone era stato nuovamente segnalato all'imperatore era impiegato come domestico dal direttore dello stabilimento penitenziario per parecchio tempo non ebbi più notizie di quel uomo due anni fa mentre trascorrevo l'estate a Lille da mio cugino dell'Ariel una sera quando stavamo per andare a cena fui avvisato che un giovane sacerdote desiderava parlarmi detti ordine di farlo entrare ed egli mi supplicò di venire presso un moribondo che voleva assolutamente vedermi circostanze simili si erano ripetute spesso nella mia lunga carriera in magistratura e benché messo in disparte dalla nuova repubblica venivo chiamato ogni tanto per simili motivi segui dunque il sacerdote che mi fece salire in un alloggio miserabile all'abbaino ad un'alta casa di operai là trovai su un pagliericcio un uomo agonizzante dall'aspetto singolare seduto con la schiena contro la parete per poter respirare meglio era una sorta di scheletro che faceva smorfie con occhi lucenti e profondi appena mi vide sussurrò non mi riconoscete? no sono Moron rabbrividì e gli chiesi il maestro? sì come mai vi trovate qui? sarebbe troppo lungo spiegarlo non ne ho il tempo sto per morire mi han chiamato questo prete poiché sapevo che eravate qui ho supplicato che vi cercasse io voglio confessarmi a voi dato che voi mi avete salvato la vita tanto tempo fa stringeva il pagliericcio con le mani rugose attraverso la tela riprese a parlare con una voce rauca e profonda ecco a voi debbo dire la verità a voi poiché si deve dirla a qualcuno prima di lasciar questa terra sono io che ho ucciso quei bambini tutti sono stato io per vendetta ascoltatemi era un uomo onesto un brav'uomo un uomo onesto e puro che credeva in Dio nel buon Dio che ci insegna ad amare non nel Dio falso quello che uccide che deruba che tormenta il Dio che governa il mondo non avevo mai commesso cattive azioni mai ero puro come nessuno signore dopo il mio matrimonio ebbi dei figli che amavo come mai nessun genitore amato i propri non vivevo che per loro ero come impazzito d'amore morirono tutti e tre perché perché che avevo fatto mi ribellai furiosamente e poi all'improvviso aprì gli occhi proprio come quando al mattino ci svegliamo e compresi che Dio è perfido perché avevo ucciso i miei bambini aprì gli occhi e mi resi conto che gli piace uccidere è il suo solo piacere signore ci dà la vita solo per riprendersela Dio signore è un massacratore ha bisogno di morti tutti i giorni e in tutte le maniere per aumentare il suo piacere ha inventato malattie incidenti per divertirsi per mesi e anni poi quando comincia ad annoiarsi ricorre alle epidemie alla peste al colera alla difterite alla sifilide forse che so tutto quel che ha inventato questo mostro e non era ancora contento le malattie si rassomigliano tutte allora si concede ogni tanto le guerre per veder 200.000 soldati a terra sventrati nel sangue nel fango senza più braccia né gambe con le teste rotte dalle palle di cannone come uova cadute su una strada non è ancora tutto ha inventato che gli uomini si possono divorare tra loro e poi dato che gli uomini diventano col tempo migliori di lui ha creato gli animali per veder gli uomini cacciarli sgozzarli e nutrirsene non è tutto ha creato animali più piccoli che vivono un giorno solo le mosche che crepano a miliardi in un'ora le formiche che schiacciamo continuamente e tanti tanti altri quanti non possiamo nemmeno immaginare e tutti si ammazzano tra loro si danno la caccia si divorano e muoiono in continuazione il buon dio sta a guardare e si diverte perché vede tutto lui i grandi e piccoli quelli che stanno in una goccia d'acqua e quelli che stanno nelle altre stelle li guarda e si diverte che ribaldo e così signore anch'io ne ho ammazzati di bambini gli ho fatto un bello scherzo quelli là non li ha avuti lui non lui io ne avrei uccisi chissà quanti ma voi mi avete arrestato ecco ero destinato a morire ghigliottinato io come avrebbe riso quel rettile allora ho chiesto ad avere un prete e ho mentito mi sono confessato ho mentito e sono vissuto adesso è proprio la fine non posso sfuggirgli ma non ho paura di lui lo disprezzo troppo era spaventoso veder quel miserabile ansimare parlare a singulti spalancare una bocca enorme per vomitare parole appena percettibili erantolava e strappava la tela del pagliericcio e agitava sotto una coperta quasi nera le magre gambe come se avesse voluto scappare oh che essere spaventoso che spaventoso ricordo gli chiesi non avete altro da dire no signore allora addio addio signore ma un giorno o l'altro mi rivolse al sacerdote che era pallidissimo e formava sulla parete una sagoma oscura voi rimanete signor abate rimango allora il moribondo ridacchiò sì lui manda i corvi sopra i cadaveri ne avevo abbastanza aprì la porta e uscì e uscì e uscì e uscì e uscì e uscì